Uno dei paesi più colpiti dal sisma, dove non mancano storie di ogni tipo. La nostra casa è stata abbattuta dalle ruspe dopo il sisma del 29 senza avvertirci e l'abbiamo scoperto dalle immagini della televisione. Ma soprattutto voi ritenevate che non dovesse essere abbattuta perché avevate incaricato un vostro tecnico per verificare la staticità dell'edificio. Sembrava sano, sembrava che potesse essere rimesso in sicurezza eppure dalla tv avete scoperto che vi stavano abbattendo casa. Io ho chiamato subito in comune, il geometra comunale mi ha detto che la casa non era venuta giù per colpa del terremoto, non perché la stavano buttando giù. In realtà le immagini parlano chiaro. Nella fretta, nella concitazione di questo abbattimento non è stata nemmeno compilata la cosiddetta scheda EDES, cioè la verifica di un perito che certifica i danni da sisma. Quindi di fatto voi non potreste neanche accedere ai contributi, dico bene, per la ristrutturazione? Esattamente, questo è quello che è successo. Va bene. Disagi, equivoci, contributi che rischiano di non arrivare per dei disguidi burocratici sono i problemi più comuni in questa fase. Ci fermiamo a quarantoli. Salve, siete una...